Interrompiamo i programmi di Chiane TG News per comunicare ed informare il nostro inviato speciale dalla sede Rai di ritornare al più presto tra i brindelloni della Valle di Chiana. Ecco a voi il servizio. Allò che c'ho la nana a un forno che mi si brucia, namo. Io no, sono l'imitatore di Cristiano Malgioglio, sono Fendi Bellotti, veramente, è l'imitatore? Allora, questo è tutto. Io ora vo a casa a mangiare perché mi sa che la nana ha preso il volo e se ne è ritornato giù del pollaio. A vederci a tutti. Ma spegne sto coso. A vederci a tutti. 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 Grazie a tutti.